Marta, come ti trovi sulla panchina? Quante persone hai incontrato oggi? Bellissimo, ho fatto una chiacchina con Stefano Malatesta, con Andrea Caravitta, con la panchina, ma io so... E' uguale? Poi ho appena salutato Deborah e Ada, e poi... Arrivo, vengo anch'io! Ecco, quindi tutto si svolge qui sulla panchina? Sulla panchina di Marta, mi sono trasferita dal divano di Marta alla panchina di Marta. A che ora ti possiamo trovare? Io penso che le nove e mezza domani mattina. Ok, ma porti pasticcini, cose varie? Eh, magari se ce la faccio sì. Si torte? Del caffellate freddo. Allora... Quindi appuntamento qui alle nove e mezza per la panchina di Marta? Mi ha anche riconosciuto un fan. Sì, eh, infatti ho assistito piacevolmente. La condizione è che ragazzi è un successore, no? Bravissimo. Spero che starò qua. Ogni qualche decennio. Tutti i giorni, a qualsiasi ora ti possiamo trovare. Diciamo la mattina è meglio. Ok. Un saluto ai fan. Ciao. Eccola, la vostra, Marta.